Il corpo di Gesù è rimasto avvolto nella sindone dalle 36 alle 40 ore. Questi sono i dati scientifici che Emanuele Marinelli ha riportato benissimo nelle pillole. Che vuol dire? Vuol dire che Gesù è risorto nella notte, fra il sabato e la domenica. Nelle primissime ore della domenica è risorto. Questa risurrezione fa sì che da sempre la Chiesa, riprendendo la tradizione di Israele, veglia la notte di Pasqua, sta in attesa. Sta in attesa di questo passaggio alla vita eterna che ci è regalata grazie al sacrificio che Gesù ha fatto per noi su quell'abominio che è la croce. E questa risurrezione è come la sintesi di tutto l'universo. In che senso? Gli ebrei raccontano un poema bellissimo che parla di quattro notti. La prima, sempre la notte, perché è nella notte che si vede il potere di Dio. La prima notte è quella della creazione della luce. La seconda è quella della creazione della fede, la fede sulla terra. Abramo che va a uccidere il figlio, il suo unico figlio che ama, come gli dice Dio, per obbedire alla volontà di Dio. Si accinge a fare questa mostruosità. Creazione della fede, la terza notte, la liberazione, il passaggio del Mar Rosso. Gli ebrei aspettano la quarta notte, quella della vittoria definitiva. La vittoria definitiva, la quarta notte, l'ha fatta Gesù Cristo. Perché Dio ha permesso a se stesso di offrire il suo unico figlio, non l'ha permesso per amore ad Abramo. L'ha permesso a se stesso di offrire il suo unico figlio perché io possa essere libera da che? Dalla paura della morte che mi schiavizza tutta la vita. Perché sempre io sono allontanata da Dio, da Satana, che mi dice, lo vedi, lo vedi che Dio non c'è, lo vedi che Dio non ti ama. Che cos'è questa malattia, cos'è questa ingiustizia, questa violenza, questo mondo così folle, pieno di ignosi, pieno di nichilismo. Ecco, durante la veglia di Pasqua Gesù è risorto. È veramente risorto, rispondono in Oriente. Cristo è risorto, è veramente risorto. Buona Pasqua!